Grazie a tutti Vi ringrazio di essere venuti qui, io parlo in qualità di segretario dell'associazione verso la cooperativa Opera Sporting Mirasole che sapete è stata attivata solo per facilitare il ragionamento e i lavori di avvio di questa cooperativa. Questa sera la riunione è informativa e di illustrazione del percorso che dovrà portarci alla costruzione di questa cooperativa. In particolare io ringrazio Emilia Pelfante che è il direttore indicario della direzione casa della regione Lombardia che non è qui per partecipare ai lavori dell'assemblea ma è qui, veramente la ringrazio per la cortesia, per darci una parola di aggiornamento su quello che sta succedendo nei confronti dell'impatto sul nostro progetto. La dottoressa Pelfante non parteciperà all'assemblea, quindi rimarrà solo per una parte iniziale, quindi dopo quello che ci dirà, se qualcuno ha delle domande è pregato di fargliele subito in modo che poi la possiamo liberare e iniziare i lavori della nostra assemblea. Buongiorno a tutti, anzi buonasera a tutti perché sono le nove di sera. Noi ci siamo conosciuti nei vari percorsi che hanno caratterizzato la vicenda dello scopo di Milassone di Opera e la mia presenza qua stasera è per assicurare tutti noi che indipendentemente dalle situazioni che stiamo attraversando, che voi conoscete dalla stampa e dai video ovviamente, nulla cambia e nulla tocca la questione di Noverazzo. Il progetto è un progetto già consolidato, è un progetto che è già finanziato, i fondi sono già bloccati presso Finlombarda, ho portato con me il protocollo d'intesa che risale allo scorso anno con gli atti deliberativi collegati e soprattutto la cosa più importante per voi è la lettera fatta Finlombarda già dal marzo del 2012 che ha bloccato i finanziamenti. Io lascio ai colleghi questa lettera che tranquillizza dal punto di vista finanziario, è tutto a posto, ovviamente questi soldi adesso vanno erogati alla cooperativa ma non devono passare più da un valgo né politico né amministrativo né finanziario, sono già pronti per essere erogati. Questa è una cosa che penso sia importante per voi sapere in un momento come questo e quindi tutto dipende dall'iter costitutivo della cooperativa che si rivolgerà a questa, ma noi li abbiamo già stanziati, è l'iter operativo che comporta poi la materiale erogazione, non c'è più alcun passaggio né di tipo amministrativo né di tipo politico né di tipo finanziario. E' quella prevista nel protocollo d'intesa che ha stanziato per la cooperativa e per l'allocazione 6 milioni e 500 mila euro, 6 milioni e 500 mila euro. Non erano 9? Sì, poi per acquisizione con patto di futura vendita altri 2 milioni e mezzo, per un totale di 9 milioni. Questi giorni sono già stampati e già bloccati come risultati da questa lettera del marzo che io consegno agli altri. Protocollo per l'alto, per gli spiegazioni. Sì, per l'alto, per gli spiegazioni ci sono tra le date o ancora non sappiamo nulla? Cioè, per l'allocazione compatta di futura vendita, l'allocazione compatta di futura vendita dipende da chi richiede questo tipo di contratto al posto dell'allocazione trentennale. Allora, dovremmo sapere cos'è, cosa non è, quanto ci costa, quanto dovremmo. Sì, tutte le informazioni che avremmo. Sì, sì. Adesso parliamo di questo. Era solo questo. Abbiamo anche di questo. Ok, grazie. La signora è in manca a conto di la scuola. Ma io sono qui. La scuola è cadente, non è che lo capiscono. No, bravo. Siamo là. Ecco, questo è giusto. Ma questo è subito. Bravi. Vedo che la sintesi non è massima. Complimento. Adesso andiamo. Se mi direte ancora di stare nella presenza, ma io vi lascio in totale libertà all'appeto. La notazione di questi fondi avverrà sia che chi fa la cooperativa stiano in due o stiano in due centri. Guardate, la costituzione della cooperativa è un fatto fondamentale per tutta questa operazione. Perché non possiamo fare dei singoli. Ma c'è una differenza tra due e due centri. O fa 20 e due centri. Ma la cooperativa non va a essere significativa, perché se no cosa è? Faccio una domanda. Il problema è lo stanno... Sono stati allocati dai fondi. E va benissimo. Bene, grazie. I fondi sono stati allocati su una certa metricità o su un certo numero. Se questo numero scende, i fondi rimangono o decrescono? Se la cooperativa si costituisce, sicuramente ci sono questi fondi. Se la cooperativa non ha i presupposti per costituirsi, che sono quelli previsti dalla legge, che sono quelli di numero e di... Allora, non vengono dati su... La mia risposta è che i fondi non vengono dati alle singole persone, ma alla cooperativa. Quindi se la cooperativa non si costituisce, i fondi non ci saranno. Non ho fatto una seconda domanda, non in polemica, ma solo per sapere. Di quanto deve essere uno dei fondatori della cooperativa o dei... Segui la cooperativa? Lascia a noi. Non c'è già niente. Non c'è già niente. Ma non c'è della regione. Scusate, non c'è niente. La cooperativa si si fa. Ma non vede... Non c'è niente. I fondi sono per la cooperativa, non per i singoli. Ripetisco. Quindi se la cooperativa si costituisce a termine di legge per la regione è l'interlocutore del protocollo di... Io ritorno quello che ho detto è che i soldi vengono da regione Lombardia. Quindi la cooperativa, della cooperativa o di chi fa la cooperativa, potenzialmente non c'entra nulla. Perché prendono le soldi della regione Lombardia. Per questo intervento... Oh, perfetto. Allora la domanda è... La domanda è... È la regione Lombardia che stabilisce quanti devono essere... No, no. Siete voi. Voi avete in mano questa situazione. Allora, prima di parte... La regione mi mette solo l'opportunità di dare a voi le risposte... Ma sono solo felice. Io voglio tentare di capire come funziona questa cosa. Allora, guarda la domanda lei. La domanda lei non è polemica. Io voglio tentare di capire, perché i soldi ne abbiamo comunque ottenuti, non qui, ma le abbiamo ottenuti noi. Che tipo di flusso avranno? Va là fino a 100, fino a 10, fino a 80, fino a 200. Non mi può dire che sono loro. Loro sono dei signori che parlano evidentemente... Siete voi. La cooperativa siete voi. Allora, riusciamo a non capire. C'è uno stanziamento. Per la cooperativa. Lo stanziamento è stato basato su dei numeri. No. 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 Lo stanziamento è stato basato sul fatto che bisogna dare una risposta alle famiglie. E quindi nel momento in cui si dà una risposta alle famiglie i soldi vengono erogati. Se non è possibile dare risposta alle famiglie perché la cooperativa non si costituisce o è una cooperativa troppo debole che non riesce a costituirsi, è ovvio che non sarà costituita l'azione. Comunque, adesso dovremmo fare una comunicazione completa che riguarda diverse cose. Parleremo anche di questa cosa. No, 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 no. No, 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 no. Grazie.